Registriamo dati di miglioramento sostanziale, tranne l'indice R con T, che però è un indice che su numeri inferiori ha una variabilità che ho già descritto in altre occasioni, comunque oggi siamo a 0,92 nella media nazionale, il numero dei contagiati è diminuito, non di molto, ma anche questa settimana è in diminuzione, rispetto a un mese fa abbiamo la metà dei contagiati in tutta la settimana, abbiamo la provincia di Pescara che potremmo definire quasi in zona bianca, fa 66 di incidenza, Teramo, L'Aquila stanno intorno a 100, 110, la provincia dell'Aquila che è quella che destra più preoccupazioni, comunque ha un'incidenza in discesa, è poco superiore a 200, era più ampia, era più alta nella scorsa settimana, quindi vuol dire che le zone rosse che sono state decise la scorsa settimana hanno avuto un effetto di contenimento, tant'è che abbiamo registrato anche la possibilità di diminuire nel numero, sono circa la metà questa settimana i comuni che resteranno in zona rossa, compreso i principali Avezzano e Magliano, però c'è comunque un primo segnale importante anche di contenimento nella provincia dell'Aquila che speriamo di poter consolidare nella prossima settimana. Ora vediamo da parte del CTS e del Ministro quali saranno le decisioni, io accolgo con favore finalmente la possibilità almeno dal 26 di poter riaprire, l'anno scorso si riaprì più o meno nelle stesse date e dimostrammo comunque che quelle riaperture erano sostenibili, anche perché pur senza vaccino è bastata la bella stagione per cominciare ad abbattere la circolazione del virus e la sua contagiosità. Quest'anno con il vaccino è chiaro che nelle prossime settimane la percentuale di persone vaccinate ovviamente continuerà a salire e questo aiuterà a tenere sotto controllo il fenomeno e la speranza di tutti e stiamo lavorando ovviamente per questo.